Buonasera, oggi è il 2 novembre ma da 17 anni a questa parte noi il 2 novembre festeggiamo i morti, bensì il compleanno della figliuola e stasera che si fa? Si fa la pizza, è una cosa semplicissima, è un attimo e quindi se ci riusciamo noi è veramente una cosa facile 500 grammi di pizza, un cucchiaio circa di olio d'oliva un pizzico di sale extra virgine naturalmente e un pizzico di sale poi ci voleva 7 grammi circa di lievito e poi 280 cc circa di acqua tiepida poi si insuppa tutto nel robot, amalgama tutto e poi la dania eccola lì che tramesta. Prima l'ho fatta levitare. Già, prima l'ho fatta giusto, questo è il risultato finito l'ho fatta levitare e non l'ho scordata. Io ho temperatura in genere ambiente ma ora è un pochino più freddo quindi sarà tipo 27 gradi insomma, la mettete un attimo vicino al radiatore se l'avete accesi se non forno di caldo caldo, tiepido, 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 va bene e nulla e poi si mangia la pizza e ci si mette tutto il che ci viene in mente, il mondo intero e poi vi si dice se è venuta bene. Ciao!